Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa videosa puntata di LorettaFiveChannel Non fate caso alla mia faccia da zombie psicodelico ma non sto molto bene Sono a casa, sto giocando alla play, alla PS1 con esattezza E sto giocando a Harry Potter e la cama dei segreti La cama dei segreti, ah che è spagnolo, vabbè comunque Allora, volevo fare una recensione sull'ultimo film che ho visto, ossia Staglio e Olio Là c'è il bigliettino ovviamente perché sono fissata a una vita che faccio collezione di biglietti del cinema Devo anzi appiccicare gli ultimi due Staglio e Olio, allora che dire, innanzitutto non c'era nessuno nella sala E questo creava ancora di più angoscia e tristezza Perché già il film era abbastanza triste e depressivo, un po' come piacciono a me E diciamo c'era l'atmosfera giusta perché c'erano tutta quanta la mia famiglia, sei persone Più una coppia, di cui uno di colore E un anno in fondo alla sala che forse era tipo il fratello del proprietario del cinema Però va bene così C'è anche da dire che era l'orario diurno, l'orario che piace a me Perché la sera mi cale il sonno Quindi non mai so vette, che ci potete fare Ho una vita sociale Quindi parliamo di questo film Innanzitutto è un film molto lento Creato appositamente in un certo modo Gli attori uguali, 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 spiccicati, identici E fa vedere in realtà l'ultimo decennio, gli ultimi 15 anni Nella parte finale della carriera dei due protagonisti, insomma dei due attori Principalmente la storia è molto coinvolgente Perché proprio racconta il backstage, no? Abbiamo l'inizio, invece in generale guardare La prima Le prime scene di un film Perché sono fatte tipo da cinema E poi se lo scordano A un certo punto il regista si scorda che è un film per il cinema E fa scene normali Però all'inizio sono belle Perché ci sono i due che camminano lungo le location Insomma le scenografie hollywoodiane E un po' trasporta lo spettatore camminando insieme a loro Infatti gira anche un po' la testa all'inizio Perché sono in quadrature abbastanza veloci e ritmate E quindi diciamo No? Crea un po' questa atmosfera così Molto bella, molto saffica Due personaggi in gamba Fanno vedere l'amicizia dei due protagonisti La forte amicizia Cioè questo film a meno a me ha trasmesso principalmente due cose La prima cosa la forte amicizia tra i due Nonostante i redimenti Nonostante Contratti e non contratti Soldi e non soldi Lo spettacolo che doveva continuare Doveva andare in qualche modo avanti La carriera che stava lentamente scivolando Nell'abisso Insomma stava decollando Sprofondando ecco Proprio nell'abisso più totale Perché ormai Insomma siamo All'inizio quasi poi degli anni 60 Si parte dal 30 al 53 Al 55 Quindi comunque Inizia a nascere la televisione Quindi il teatro Non fu più visto Come proprio Diciamo L'unico L'unica fonte ecco Di distrazione Benché loro facessero film appunto Ma il sorgere anche un po' A dare la televisione da casa Ha sconvolto molte persone Ho saputo in quest'ambito Perché prima era Teatro Cinema E poi nasce la tv E quindi le persone All'inizio andavano solo a teatro Quando nasce il cinema Fa teatro e cinema Al momento in cui nasce la televisione Le persone soprattutto quelle Diciamo un po' più fighettine Avevano spezzato un po' questo meccanismo Quindi diciamo A botteghino Facevano meno successo di spettacoli Se il teatro che il cinema Perché le persone All'interno della televisione Si andavano a guardare I stessi spettacoli Fondamentalmente E la seconda cosa Che mi ha trasmesso a me Di questo film Che è molto bello Comunque io ve lo consiglio Se amate Stagliolio Tutte le scenette possibili Immaginabili Se amate Sei uno stupito E tutta una serie di cose Ok Se li amate Conoscete chi sono Insomma Io ve lo consiglio Perché è uscito adesso Ancora il primo maggio Io l'ho andata a guardare Esattamente due giorni dopo Non ho manco pagato tanto Almeno qui a Catania La seconda cosa Non meno importante Che è praticamente All'attore La Pongiolina Dolcino Babe Si ammalano Di cuore E quindi non può In realtà Proseguire con gli spettacoli Insieme al suo amico Ma lui In perterrito Insiste Questa cosa è molto bella Perché ci fa capire Che l'unico modo Per andare avanti Nella tua vita Se hai degli stacoli davanti Che siano essi di malattia O altro Devi continuare a fare Sempre le stesse cose Devi continuare A fare sempre Le cose Che hai sempre fatto E che ti piace fare Questo è la chiave Per smorzare un po' La tensione Le ansie Le preoccupazioni Della tua quotidianità E dei tuoi problemi Un attimino Mettendoli di lato Dimenticandoli E diciamo Facendo poi uscire Un po' La distrazione Cosa che è nata Dal teatro in poi E' un principio Di distrazione Un attimino Tu uscivi Dalla realtà circostante E andavi un attimo A medesimarti In altri ruoli Di altre storie Con altri problemi Possibilmente Ma non erano i tuoi E quindi Nasce un po' No? E' molto molto bello Ripeto E' molto lungo Molto serio E molto triste Però è molto bello E commovente A meno io Se mi commuovo Alla fine del film E mi vengono i brividi E la pelle d'oca Sono soldi ben spesi E ho detto Wow Ma io normalmente Non guardo mai I film che poi Non mi piacciono Perché io già Essendo una regista scenografa E anche amante Della fotografia Io già capisco Dal trailer Se un film è bello o brutto Quindi se vuoi Dite Iole All'oletta Secondo che sto film È bello o brutto Mandatemi il link Del trailer E io ve lo dico subito E vi dico Al colpo sicuro Se è da guardare Al cinema Oppure no Perché certi trailer Proprio fanno Tu dici Ma se giudica Un libro Dalla copia Sì Ragazzi sì A volte sì A volte il trailer Così com'è Così poi è il film Non è dalla serie Oh ma questo trailer È molto Tipo Non si capisce niente Chissà come sarà il film Poi vedi il film E non si capisce niente E quindi A un certo punto Tu dici Ok E allora Non è che il trailer Non si capisce niente Il film che fa cadare Ok Io nella mia vita Ragazzi Ho visto Non so quanti film Ho studiato Li faccio Nel mio mondo E nel mio piccolo Li faccio E quindi Ho ormai Diciamo una certa cultura In queste cose Ripeto Ve lo consiglio Tigre lunga Le mando Un bacione del cuore Alla prossima recensione Viene al cinema Con l'oletta Il prossimo film Da vedere Che se non sbaglio Esce O a fine maggio Inizio giugno È Aladdin Con Will Smith Il terzo film Devo andare a vedere Devo un po' recuperare Questi nuovi film Che adesso usciranno Al cinema Perché ora Ci sarà Un botto E poi ovviamente Inizio giugno Come ogni anno C'è l'etana comics E io ci andrò Ovviamente Mi troverete lì In qualche stand A cazzeggiare Allegriamente Quindi Ciao